Nicola Primavera, direttore dell'Inca di Pescara e il patronato della CGL, interviene al Tg8 per esprimere le forti preoccupazioni in merito al disagio sociale dalla disoccupazione in tutta la provincia. Ci sono postazioni come quelle dei patronati Inca, nelle quali la realtà si esprime in tutta la sua evidenza, dove il lavoro che manca o il disagio sociale si manifestano in persone in carne ed ossa, uomini e donne, che hanno bisogno di quei consigli, pratiche e competenze che possono servire ad affrontare i loro problemi, a dare loro un aiuto concreto. L'occupazione e il lavoro restano ancora aspetti preoccupanti del nostro tessuto sociale. Ma io sono un sindacalista industrialista, quindi secondo me l'industria è fondamentale. Le altre ricette sono dei pagliativi che lasciano il tempo che trovano. Io credo che dove c'è la manifattura, dove ci sono gli investimenti industriali, dove ci sono iniziative imprenditoriali valide, c'è sviluppo, c'è occupazione, c'è crescita economica, duratura. E penso che anche noi come sindacate e come CGL dovremmo insistere molto di più, fare una battaglia molto più incisiva appunto per un nuovo sviluppo industriale di questa nostra regione, di questa nostra provincia. Aspetto preoccupante, l'Italia a livello europeo resta fanalino di coda. Questo sì, appunto perché manca sostanzialmente una politica industriale, poi abbiamo una situazione delle grandi opere che sono assolutamente bloccate, quindi manca una visione d'insieme dello sviluppo di questa nostra società. Si presta attenzione a misure che rischiano di essere solo misure di tipo assistenzialistico e che non danno risposte, ahimè, soprattutto al futuro dei giovani di questa nostra società. Com'è cambiato il ruolo del sindacato in questi anni, in questi decenni? Ma indubbiamente è cambiato moltissimo. Io sono entrato in CGL il 5 febbraio del 79, in un periodo molto complesso, molto difficile, ma anche abbastanza esaltante. Basti pensare che il segretario nazionale della CGL era Luciano Lama, quindi da CGL di Lama, di Trentinne, di Garavini, Bertinotti, e quindi un sindacato che veniva da conquiste importanti e significative per il mondo del lavoro, con una forte incidenza e un forte ruolo, soprattutto del lavoro dipendente, nella società italiana. Sull'ipotevi d'accordo che è stata realizzata...